Grazie a tutti i ragazzi, io sono Luca, solo l'anno scorso ero ancora nel mondo della scuola, ma grazie ad ADECO e progetto tecnicamente oggi lavoro da circa un anno in IGPRA come disegnatore meccanico. Insomma la mia storia dimostra come un buon percorso da alternanza scuola-lavoro può portare a risultati davvero concreti. L'adesione è ovviamente legata al fatto che si tratta di una vetrina per i nostri studenti, possono mostrare alle aziende del territorio le competenze che hanno acquisito, ma appunto più profondamente ci interessa per le competenze che sviluppa negli studenti. Tecnicamente per noi è oggettivamente il reale ponte fra mondo della scuola e mondo del lavoro. Per noi è straordinario poter ascoltare dalla viva voce dei ragazzi cosa progetteranno per le aziende e alle aziende stesse incontrare oggi i loro futuri professionisti, i loro futuri specialisti. Credo che sia utile per il territorio, quindi per le aziende del territorio, in quanto avvicina i ragazzi al mondo del lavoro, introduce non solo concetti teorici di come andrete a lavorare, ma trasforma il tecnicamente in praticamente. Buon tecnicamente a tutti!